La più grande preoccupazione che avevamo prima di conoscere il matrimonio tra voi e gente era una festa uguale a tutte le altre, il timore di fare un matrimonio ripetitivo come tutte le altre feste, scontato e soprattutto con gente che si annoiava. Il mio crucio, pensando all'organizzazione di un matrimonio, era proprio quello. Immaginarmi gente annoiata ai tavoli nell'attesa dei passi o in attesa degli sposi che stavano a fare le foto. Abbiamo cercato tantissimo, sia tra i gruppi che hanno suonato i matrimoni dei nostri conoscenti sia su internet, però ci proponevano sempre cose ripetitive o cover, o balli classici, musica così da intrattenimento e noi ci immaginavamo una cosa un po' floscia e quindi questo ci intumore avevamo paura di non trovare un qualcosa di diverso o magari che potesse dar fastidio ai nostri ospiti e quindi stavamo cercando veramente qualcuno che divertisse e facesse alzare dalla tavola in maniera naturale tutti gli ospiti senza farli scocciare o senza interrompere i passi perché i tempi sono importantissimi, purtroppo noi siamo andati a matrimoni dove al taglio della torta gli sposi erano soli, non c'era coordinazione, non si sentivano né musiche né si capiva il momento che stava arrivando quindi per lui era fondamentale che ogni momento venisse accompagnato da musica che la musica soprattutto è coinvolgente e quindi volevamo qualcosa di davvero diverso quello che ci ha convinti a scegliere il matrimonio travolgente che proprio ci ha colpito lì e abbiamo detto in lui quello giusto e perché ci faceva vedere, vedevamo dei video e delle foto con tutta questa gente divertita, la sala piena, tutti alzati, tutti contenti e veramente tutti fossero allegri e spontaneamente presenti lì in pista a ballare alla grande e abbiamo detto cavolo ma noi vogliamo proprio questo e oggi nonostante il diluvio, lo scalzamento con cui siamo arrivati abbiamo trovato esattamente questo perché noi siamo arrivati in una situazione un po' difficile perché fuori diluviava, i nostri ospiti sono dovuti entrare in sala di corsa quindi ci sono stati un attimo di panico e invece quando siamo entrati li abbiamo trovati lì tutti pronti tutti pronti ad aspettarci allegri che si erano predisposti in maniera tranquillina in maniera naturale e quindi siamo partiti in Liana Grande erano già tutti belli di sprint e poi insomma siamo partiti col botto perché erano tutti belli giacari che col sottofondo musicale a palla abbiamo fatto l'ingresso da star e ci siamo divertiti subito insomma dall'ingresso diciamo che si è sciolta la tensione con cui siamo arrivati qui perché eravamo davvero preoccupatissimi e quindi temevamo che magari anche i nostri ospiti presi dal tempo con l'idea di restare tutta la giornata al chiuso senza poter uscire magari ci s'amborbavano ai tavoli e invece è stata una giornata fantastica si sono divertiti tutti 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 io sono sincera un miracolo oggi perché pensavo che le mie colleghe non si dico loro perché quelle più seriose non si sarebbero mai alzate dal tavolo in vista con noi mani in alto a un'ora squarciacola una cosa lucidante, stupenda veramente questo è stato il regalo più grande della loro partecipazione senza un'animazione forte alle spalle questo non si può avere questo non è successo per noi è stato un grandissimo privilegio essere stati sceppi tra le 30 coppie di matrimonio travolgente perché appunto non essendo per tutti per noi è stato insomma e niente volevamo qualcosa di diverso e oggi l'abbiamo davvero appunto quindi ringraziamo tantissimo e soprattutto anche perché siamo riusciti a stupire i nostri ospiti noi consigliamo matrimonio travolgente però solo solo esclusivamente alle coppie che veramente si vogliono divertire e vogliono una giornata grande, allegra dove tutti saltano chi vuole la sciccheria di tutti i composti no se invece volete divertirvi veramente godervi il momento il vostro momento gioire con tutti gli ospiti in pista allora è proprio l'ideale matrimonio travolgente ve lo consigliamo senza problemi per chi vuole stare senza il problema delle tempistiche e sa che vuole essere accompagnato in tutta la giornata senza problemi e senza inghitti consigliamo matrimonio travolgente ragazzi ma quanto ci siamo a divertire esattissima grazie a tutti grazie a tutti Grazie.